Un successo il primo anno, il secondo Sibissa. Sono infatti aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Bando Conai per le tesi di laurea 2023-2024, un progetto voluto da Conai e Denea sulla base di una convenzione siglata nel 2022. In palio tre premi da 3.000 euro ciascuno per tre tesi di laurea magistrali sui temi legati all'economia circolare, come le strategie adottate dalle imprese per promuovere sostenibilità e circolarità, l'innovazione tecnologica nei settori del riciclo e recupero dei materiali o le strategie di decarbonizzazione delle imprese. Per essere candidabili le tesi dovranno essere state prodotte tra il primo marzo 2023 e il 30 aprile 2024. Il consorzio, spiega il presidente Ignazio Capuano, sostiene e favorisce da sempre la formazione sui temi legati alla tutela del pianeta, lavorando con le scuole primarie, con quelle superiori e con le università. La gestione dei rifiuti e il riciclo sono attività complesse che richiedono un'alta formazione. Temi come questi diventano focali per gli studenti universitari soprattutto in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro, dichiara invece Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento di Sostenibilità, Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea.